Si aspettava l'annuncio di quale fosse il grande evento all'interno del programma della Notte Bianca di Ancona e invece il vero grande evento è l'intero programma, ampio e variegato, pronto a soddisfare le aspettative di tutti. Notte Bianca è intesa quest'anno come una grande occasione per rinsaldare da parte dell'amministrazione quel importantissimo rapporto che dobbiamo avere con tutto il mondo dello spettacolo, con tutto il mondo degli artisti, con tutte le associazioni culturali che la nostra città vivono e quotidianamente operano. Una grande occasione per loro, un'amministrazione deve dare spazio a queste realtà. Dalle 17 fino alle 3.30 di sabato prossimo saranno organizzati 53 appuntamenti in totale, dislocati in 38 location diverse. L'offerta è molteplice a fronte di un budget di spesa limitato. La Giunta Comunale ha infatti decurtato la somma a disposizione di un terzo rispetto allo scorso anno. Quest'anno l'assessorato alle politiche giovanili e alla cultura hanno lavorato con 30.000 euro, inevitabile in ricorso alle sponsorizzazioni. L'industria Schiavoni è la principale. Piazza Roma sarà invece il fulcro grazie alla sponsorizzazione dell'industria dolciare a Giampaoli, con il concerto degli Aprella Class, band salentina che salirà sul palco da mezzanotte. Ma spazi musicali ci saranno anche in tutte le altre piazze del centro città, compresa Piazza del Papa, dove i locali hanno organizzato una discoteca a cielo aperto. Il settore cultura invece vivrà tra i quattro luoghi di esposizione, pinacoteca, museo archeologico, museo della città e mole vanvitelliana. Esercizi commerciali e negozi hanno invece ricevuto una deroga e consueti orari di apertura e chiusura. Ci sono anche i divieti, quello di somministrazione di bevande alcoliche fino alle 3, mentre ogni spettacolo potrà durare almeno fino alle 3.30, eccezione fatta per il concerto all'Arco di Traiano che durerà fino alle 5.00. surplus di lavoro per la Conerobus con bus navetta da Piazza Ogobassi e Piazza Cavour, mentre saranno a disposizione della sosta delle auto i park Traiano e Archie e l'area della banchina 14 dentro il porto.